Signore e signori, buongiorno e benvenuti a questa giornata di Una ragazza per il cinema, con vostro giunto ormai alla sua 33esima edizione sul palco scenico nazionale, che Max 20, esclusivista regionale per il Vento, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, oggi ha il piacere di presentarvi. Le selezioni di oggi e delle prossime serate daranno alle nostre ragazze la possibilità di accedere alle finali regionali 2021. Grazie a tutti! 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 11! Grazie a tutti! 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 e... e... Grazie a tutti! e... 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 e...